amore è un odesio che vende a core è un testo un sonetto di giacomo dalentini un testo che verte sulla definizione dell'amore che cos'è l'amore e la domanda a cui risponde interessante leggerlo dopo esser passati per l'esperienza della lettura dei testi della poesia provenzale in particolare di joffre rudel che inventò che definì l'amore lontano vale a dire l'amore che non conta tanto sulla pagamento sulla sua realizzazione perché si configura come una tensione come un proiettarsi perché la donna resta comunque è sempre irraggiungibile ma soprattutto è un amore che non nasce da un'esperienza diretta non nasce dagli occhi come dice in questo testo giacomo dalentini ma nasce dal sentito dire nasce dal ricordo invece di tutt'altro avviso e giacomo dalentini come leggiamo nel primo verso in cui risulta che l'amore è un desiderio che nasce dal cuore per un'abbondanza del gran piacere che si prova ma il cuore concepisce come dirà dopo questo gran piacimento perché sono gli occhi per primi che generano l'amore a cui poi il cuore dà nutrimento gli agenti ce li abbiamo davanti già in questa prima quartina amore in apertura il desiderio che è un tema ricorrente a cui si collega il gran piacimento del secondo verso ma soprattutto direi gli occhi e il cuore perché si capisce bene che gli occhi generano l'amore e all'amore poi il cuore provvede con il necessario nutrimento nella seconda strofa per questo ho introdotto il video introdotto l'argomento facendo riferimento a Geoffrey Rudel giacomo dalentini ammette che può accadere qualche volta che qualcuno diventi amante amatore scrive lui senza vedere l'oggetto del suo amore e questo senza vedere lo spieghiamo appunto al confronto con la poesia provenzale in cui l'amore si genera per sentito dire sulla base di parole oppure di un ricordo ma c'è un ma argomentativo a metà della seconda quartina che ci dice che l'amore che stringe con furore nasce dalla vista degli occhi e quindi gli occhi sono fondamentali dalla vista degli occhi a nascimento come nel terzo verso e gli occhi in prima generano l'amore e poi spiega nella prima terzina che gli occhi rappresentano al cuore qualsiasi cosa sia che sia buona sia che sia malvagia come formata naturalmente quindi gli occhi hanno questa questa funzione importante di portare al cuore ciò che essi vedono sia che sia positivo che negativo e il cuore che a questo punto di questo di quello che recepisce è concepitore termine che non è inteso come per noi concepire nel senso di mettere al mondo generare ma concepitore nel senso etimologico del latino cum capere cioè abbracciare il cuore riceve dagli occhi l'impressione dell'amore e lo abbraccia al punto che immagina ecco che cosa fa il cuore immagina e prova piacere per quel desiderio e questo amore è un amore che regna fra la gente dovendo commentare brevemente partirei proprio da quest'ultimo verso perché ci dice di come l'esperienza di cui parla giacomo d'alentino non è un'esperienza soggettiva non è presentata in termini personali ma in termini più generali universali significa che gli sta cercando di definire l'essenza dell'amore facendo un discorso più ampio e questo è lo sforzo che compie definendo appunto l'amore per quanto riguarda i campi semantici mi pare opportuno per concludere l'analisi rilevare come sia particolarmente insistente il riferimento al cuore il riferimento agli occhi il riferimento alla generazione cioè alla nascita al verso 1 dice che è un desiderio che viene dal cuore al verso 3 parla di generazione sono gli occhi che generano dapprima l'amore si parla espressamente di nascimento al verso 8 ma c'è un altro aspetto interessante oltre al riscontro nel testo della ricorrenza di occhi e di cuore gli occhi li ritroviamo al verso 3 li ritroviamo al verso 8 al verso 9 il cuore ritorna al verso 4 e lo core da nutricamente al verso 9 gli occhi rappresentano allo core e poi al verso 12 il core immagina quindi occhi cuore l'idea della nascita ma anche l'idea del piacere che in conclusione non possiamo non evidenziare e qui forse c'è una differenza rilevante tra la concezione dell'amore in joffre rudel che è un amore più spiritualizzato invece qui si parla espressamente di piacere perché piacere allude all'opposto anche al piacere dei sensi al piacere fisico non è soltanto qualcosa di spirituale e questo riferimento al piacere si evidenzia al verso 2 con gran piacimento e al verso 13 con piace ma è interessante però far riferimento anche ad altri due termini che forse possono essere riferite allo stesso campo semantico uno è dal verso 7 quando dice dell'amore che stringe con furore cioè il con furore vuol dire con follia l'amore che rende folli che coincide quasi con un trasporto totale assoluto come una passione esclusiva appunto anche questo possiamo intenderlo forse come un riferimento implicito al piacere e forse un ultimo riferimento per quanto riguarda il piacere mi pare si possa vedere nella presenza dell'avverbio al verso 11 naturalmente ecco questo per dire come la concezione dell'amore non è esclusivamente spiritualizzata ma anche apre come dire ad un'idea di un amore come un'esperienza che dia piacere che quindi sia legata anche ai sensi e non soltanto al puro intelletto diversamente per gli stilnovisti si parlerà di un amore spiritualizzato anche ai sensi che... anche a tutti gli stai un'idea di un amore per per Grazie per la visione!